A colgo con vivo piacere la possibilità di unirmi a voi questa sera e di invitarvi a pregare per tutti i servitori dello Stato. Non è sempre facile assicurare l'ordine pubblico e il rispetto delle leggi in particolare in questo momento così sensibile. Abbiamo bisogno delle vostre preghiere per avere il coraggio e la determinazione di applicare sempre con equità la legge e con la giusta sensibilità e il buon senso che deve caratterizzare ogni operatore delle forze dell'ordine. Per mantenere vivo all'interno delle diverse divise che identificano i vari corpi delle forze dell'ordine un cuore generoso per alimentare sempre con un rinnovato vigore lo spirito di servizio che ci caratterizza per la tutela dell'ordine e della sicurezza democratica del Paese. Abbiamo bisogno delle vostre preghiere per poter chiudere ogni sera la nostra giornata con l'intima gioia e la rassicurante certezza di aver compiuto fino in fondo il nostro dovere per il bene di tutti e cioè servire la comunità. Grazie.